Buongiorno a tutti, sono Ipenki, sono iobbi, giotto cinquecento di Riviera di Ikimazu, cinquecento Qua contempo Genki, mi mancherà il costo che d'oro non rimasso Qua contempo Genki, mi mancherà il costo che d'oro non rimasso Qua contempo Genki, mi mancherà il costo che d'oro non rimasso Qua contempo Genki, mi mancherà il costo che d'oro non rimasso I uccelli nell'aria perdono l'ali quando passano volari Ok, mi mancherà, è arrivata, è un drive di 45 km tra di Tosukudoro e il giorno prima è più facile, quindi non è più difficile. È molto divertente, molto bene e tutto ok. Grazie. notte bye bye